Cosa lì, non l'ho mai visto nessuno Perché secondo te i pesci si prendono con le mani? Certo, con che se no? Ehi, fa vedere, vieni qui un momento Ma, ma come diavolo hai fatto? Perché a te non riesce A me veramente riesce poco anche col bastone Forse perché voi non avete l'energia biomagnetica Voi chi? Voi abitanti di questo pianeta Eh già, noi poveri terrestri No, così non ci riuscirei mai Perché? Voi non avete super raggio fotonico Guarda, ora l'ho puntato verso di te E ti ho trasmesso l'energia biomagnetica Dai, prova adesso Vuoi dire che adesso sono pieno di energia biomagnetica? Beh, sì E basta che faccia così Voi! 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 Grazie a tutti